Bene, ora parliamo di plastica, anzi di bioplastica, con Manuele Martini di Maip che ha creato un nuovo polimero che si chiama I Am Nature. Che caratteristiche ha questo nuovo polimero che avete creato? Questo polimero è un materiale che è stato inventato anni e anni fa, ma è sempre rimasto nascosto perché nessuno ha mai avuto l'intenzione di studiarlo e di utilizzarlo per un prodotto finale. Noi siamo riusciti a renderlo reale, a renderlo possibile, quindi abbiamo preso questo materiale qua che è un PH, un polidrossi al canoato, e abbiamo, grazie a compatibilizzanti sempre naturali, abbiamo prodotto questo materiale che è 100% di origine naturale, in quanto deriva dalla sintesi, da dei batteri, quindi non è sicuramente prodotto da fonti petrolifere, ma è 100% biobased ed è compostabile in qualsiasi ambiente, quindi è compostabile a casa, quindi in una compostiera a casa, è compostabile in un compostaggio industriale, quindi industrial composting, e la cosa molto particolare di questo materiale è che degrada anche in mare, e degrada anche in acqua, quindi è una particolarità che solo questo polimero ha e nessun altro riesce a raggiungere queste caratteristiche. Inoltre noi lo definiamo che è un tecnopolimero, nel senso che ha caratteristiche tecniche che riescono a soddisfare le esigenze di clienti molto particolari, nel senso che ha resistenze anche termiche fino a 130 gradi, quindi si può utilizzare per applicazioni particolari, come ad esempio l'utilizzo per un semplice caffè, come tazzina da caffè, o come si può mettere anche volendo in lavastoviglie, in quanto riesce a resistere alle temperature della lavastoviglie. Quindi questo è un po' un sunto di questo materiale innovativo. Ecco, però voi riuscite anche da questo polimero a soddisfare delle esigenze particolari di clienti particolari. Ci racconta un attimo come? Noi siamo un'azienda di compounding principalmente, quindi abbiamo un'espertise, un know-how capace di modificare la formulazione di questo materiale in modo da raggiungere caratteristiche richieste dal cliente. Noi possiamo fare un materiale tailor-made, nel senso che possiamo modificare la flessione, la rigidità di questo polimero da morbidissimo a un materiale molto rigido, quindi in base alla richiesta del cliente noi riusciamo a soddisfarlo. Questo, grazie a cariche minerali, a blend con altri biopolimeri, in quanto esistono più biopolimeri al mondo, quindi facendo anche dei blend noi riusciamo a soddisfare qualsiasi richiesta. Bene, grazie mille, grazie a tutti da Ecomondo per Ecofuturo Sergio Ferraris.